Musica Musica James Papelli scrisse alcuni lavori su riviste scientifiche, raccontò il suo pensiero terapeutico in conferenze, parallelamente alla sua attività di ipnotista da palcoscenico, ma soprattutto scrisse nel 1928 questo testo che si chiama La psico-enervazione. È piuttosto raro ormai sul mercato librario, ma ho avuto la fortuna di riuscire a recuperarne in questi anni di studi non una, ma addirittura due copie, una in brossura e un'altra rilegata in maniera piuttosto preziosa. Il volume all'interno è stato una sorpresa perché, aprendo le prime pagine, è possibile trovare una dedica di James Papelli al professor Lugones. Non ci ha dato sapere molto su questo destinatario di questo dono, salvo dei generici, una generica dedica, ma è stato piuttosto emozionante trovare per caso, perché il libraio o non se ne era accorto oppure semplicemente ignorava chi fosse il personaggio di Mapelli, trovare la firma autografa dentro a questo volume. Siccome il volume è raro, il personaggio è assolutamente stato dimenticato per molti anni, ho pensato di scannerizzare il volume, di renderlo disponibile per quanti hanno interesse ad approfondire questa figura assolutamente avventurosa e hanno interesse a ricostruire il percorso di questo pensiero che parte dal palcoscenico e arriva poi alla clinica dove Mapelli aprì il passo poi ai metodi di psicoterapia in Argentina ed è ricordato come un precursore importante da personaggi come ad esempio Gregorio Bermann che fu uno dei padri del pensiero psichiatrico appunto in Sud America. Questo testo è inserito in pdf in una pagina del sito www.carloclerici.it dedicata appunto alla vita e le avventure e le opere di James Mapelli. Grazie per la visione!